Buongiorno a tutti, grazie per essere qui, ringrazio i nostri graditi ospiti, ringrazio la nostra ex segretaria generale Anna Maria Furlano, è sempre un piacere averla con noi. Ringrazio tutti quanti voi perché ci avete dato la possibilità di festeggiare questo importante compleanno in questo luogo che 70 anni fa ha accolto il primo congresso. Ci aiuteranno in questo nostro percorso che il nostro segretario generale Gigi Sbarra, che saluto, ha tanto voluto che si realizzasse. Ci aiuteranno quindi in questo nostro percorso il professor Carera, che conoscete molto bene, presidente della Fondazione Pastore, il dottor Romani, che è il presidente dell'Associazione degli Amici della Fondazione Pastore, ma è il secondo genito del nostro compianto professor Mario Romani. E' il professor Acocella, anche lui un amico della CISL, magnifico rettore dell'Università Giustino Fortunato. Il nostro segretario generale Sbarra poi trarrà le conclusioni di questa nostra giornata. Ripeto, lui ha molto insistito perché noi potessimo ritornare in questo luogo per noi così tanto importante. Passo la parola a Salvatore Topo, il segretario organizzativo della CISL Campania, che ringrazio perché la Campania ci ha tanto aiutato per organizzare questa nostra iniziativa. Grazie. Grazie a tutti, benvenuti a Napoli, benvenuti in Campania, grazie Daniela. Oggi io credo che come sta accadendo a me, ognuno di noi sta provando un'emozione forte, perché credo che oggi noi ci troviamo, a parte in un luogo che, come diceva Daniela, è importante sotto tanti punti di vista, è importante per noi della CISL perché in questo luogo si è tenuto il primo congresso della CISL nazionale ed è stato sottoscritto il primo statuto, uno statuto ovviamente che ancora oggi fa parte del, come si suol dire, della nostra valigetta degli attrezzi. Quindi io permettetemi intanto di dare il benvenuto a tutti, Daniela ha già citato sia un parterre molto importante, do il benvenuto anche ai graditi ospite, all'assessore, al dottor Paolo Giulierini che ci raggiungerà tra poco, il direttore di questa struttura importante e meravigliosa. Consentitemi ovviamente di fare un dovere istituzionale per me molto gradito, quello di trasferire a voi tutti i saluti della segretaria generale Doriana Buonavita, che purtroppo non è presente oggi, ma sapete tutti o quasi tutti qual è il motivo, un motivo meraviglioso, bellissimo, Doriana e nonna da qualche giorno. Quindi grazie dell'applauso che ovviamente riferirò puntualmente alla segretaria generale. Oggi, a parte ovviamente ricordare quella occasione importantissima per la CISL, un pezzo di storia, e credo qualcuno stamattina mi diceva che tra qualche anno ci ricorderemo di questo giorno perché lo collocheremo esattamente dove i nostri padri fondatori hanno collocato quel giorno del 1951, in una memoria diciamo che resterà indelebile. Questo credo che succederà anche per noi. Non a caso e non solo appunto per la memoria abbiamo scelto e colgo l'occasione per ringraziare la segreteria nazionale, come diceva Daniela, Gigi ha fortemente voluto questa giornata e credo che di questo soprattutto chi vive di sindacato ogni giorno debba essere veramente grato alla segreteria, Gigi, per aver appunto permesso a noi tutti di fare parte, di essere anche noi parte di quella piccola storia che ogni giorno attraverso la nostra azione, attraverso il nostro lavoro, scriviamo la storia della CISL ognuno nella propria realtà, ognuno nella propria dimensione. Questo è un luogo della cultura importante, lo dico all'assessore, mi sarebbe piaciuto anche testimoniarlo al direttore del MAN e colgo l'occasione appunto per sottolineare l'importanza della cultura, di quanto si debba ancora fare tanto per rendere la cultura, permettere, collocare definitivamente la cultura, i luoghi della cultura nel dibattito nazionale, nel dibattito europeo, anche perché per noi, per noi la cultura e soprattutto per un paese come il nostro, la cultura è veramente un fattore di crescita economica, deve essere un fattore di crescita economica, di sviluppo, ma soprattutto di giustizia sociale, perché la cultura è di tutti. Quindi veramente volevo sottolineare questo aspetto perché di cultura se ne parla tanto, ma ancora si fa molto poco. La celebrazione di un anniversario richiama sempre alla memoria l'evento originario, che si vuole ricordare per rinnovare il senso, il significato e la valenza nell'oggi per il futuro. Lo statuto in diritto è l'atto giuridico fondamentale che disciplina l'organizzazione e il funzionamento che regola il rapporto con l'associazione e tra gli associati. Lo statuto della CISL, il nostro statuto, non è solo un atto che contiene articoli e regole, il nostro statuto è molto di più. Esso racchiude il pensiero, la visione dei nostri padri fondatori che avevano immaginato la nostra organizzazione come un soggetto di riferimento per lavoratori, famiglie e cittadini. E possiamo dire, Gigi, possiamo dire che quella visione si è realizzata anche nel migliore dei modi. La celebrazione del settantesimo anniversario dello statuto CISL, approvato dal primo congresso confederale, 11-14 novembre del 1951, svoltosi a Napoli, nello stesso luogo in cui ci troviamo oggi, ci invita tutti a ritornare alle origini e risalire alle fonti sorgive della quale promanno lo spirito della CISL. Quello spirito che ha animato tante donne e tanti uomini che in questi 70 anni hanno consumato la loro vita a difesa della CISL, dei diritti e delle dignità dei lavoratori e delle lavoratrici, quello spirito che ci ha trasmesso attraverso gli esempi, ci è arrivato attraverso gli esempi di uomini come Giulio Pastore, che appunto da 70 anni viene portato avanti dal lavoro dei nostri tanti militanti, attivisti, delegati, operatori e dirigenti sindacali. Oggi la celebrazione di questo anniversario vuole anche essere l'occasione per rendere sempre più forte la nostra identità, che si innesta appunto nella storia di chi ci ha preceduto, che si è nutrita e si nutre ancora oggi di quella sacra passione che ci vede impegnati in tutte le occasioni, accanto alle persone più fragili, sempre più vittime di una economia predatoria che spesso arriva a negare la dignità degli individui. Mi permetterete di cogliere questa occasione della presenza di tutta la CISL qua a Napoli per, come dire, sottolineare la necessità di una scelta di campo ben precisa, continuare all'impegno dei nostri padri fondatori per riparare ai profondi squilibri che ancora oggi alcune aree del Paese, compreso il nostro mezzogiorno, vivono costantemente. A questo proposito vorrei ripetere, permettetemi di ripetere a me stesso e proporre alla vostra attenzione le parole della prima mozione che venne presentata in quel congresso a firma di Carlo Donacatten, Antonio Alisio, Agostino Cavaliere, Aurelio Curti e Michele Genisio. Si proponeva appunto al primo congresso della CISL la mozione che porta il titolo per l'avvenire del movimento operaio. In quella mozione che indica le linee di impostazione e di indirizzo per il nuovo cammino del movimento operaio italiano, al capitolo politica economica e salariale si legge al punto 7. Vi prego di ascoltare quanto sia attuale. Il problema del lavoro della produzione e del consumo in Italia è però soprattutto incentrato sulle condizioni del Sud. Gli sforzi compiuti sono tuttavia insufficienti a determinare un chiaro mutamento delle condizioni di vita dell'Italia meridionale. È quindi necessario adottare più energiche e radicali misure che investono anche i lavoratori e le produzioni delle altre regioni. Al punto B, devono essere incoraggiati e sospinti massicci investimenti dall'interno e dall'estero per l'incremento non solo della produzione agricola ma anche della produzione industriale nelle regioni meridionali. I lavoratori delle imprese monopolistiche e protette devono disporsi a sopportare sacrifici perché si ristabilisca una perequazione per i lavoratori del meridione tenendo conto che ogni sacrificio in questo senso sarà temporaneo e si riverserà in migliori condizioni future una volta liberata la vita italiana dai funesti risultati della politica economica, dei momenti e dei trust. Io credo che ci sia poco da aggiungere. Voi, molto meglio di me, avete potuto in qualche modo valutare quanto ancora oggi siano attuali questi documenti, queste citazioni e quanto sia attuale ancora oggi la condizione dei nostri territori. Come uomo del Sud, quindi, come dirigente sindacale di una regione del Mezzogiorno nel rileggere queste parole a distanza di 70 anni da quel congresso provo una particolare emozione. La CISL non ha mai lasciato solo gli uomini e le donne i giovani e gli anziani del Mezzogiorno sempre e quindi si è impegnata in questo progetto di giustizia e di equità per il pieno sviluppo economico, sociale e produttivo dell'intero Paese. L'impegno continua ancora oggi. Le crisi industriali del Mezzogiorno vedi Whirlpool, ma non solo sono tali e tante che non ci consentono oggi di rallentare il nostro impegno anzi, proprio quel congresso di 70 anni fa ci indica la strada che dobbiamo continuare a percorrere con tenacia, intelligenza e lungimiranza. La celebrazione di un anniversario rappresenta anche una particolare occasione per continuare il mandato che è stato consegnato il 14 novembre del 1951 con l'approvazione dello Statuto della CISL a donne e dirigente, ad ogni iscritto ai milioni di uomini e donne che formano la nostra bellissima e grandissima organizzazione. Il nostro lavoro quotidiano trova la sua ispirazione nelle parole con le quali si concludeva quella mozione. Si conferma la profonda volontà di pace dei lavoratori italiani, la loro indeclinabile convinzione che il progresso del movimento operaio, l'affermazione dei diritti del lavoro, la lotta contro la miseria e il riscatto degli oppressi e degli umili, mai nascono dalla nequizia, crudeltà delle stragi e dell'orrore di ecatombi e di rovine disumane, ma si attuano soltanto nell'ordinato sviluppo che dalla libertà con le civili competizioni il metodo democratico promuove. Voglio concludere questo mio intervento di saluto rivolgendo a tutti voi le parole che Giulio Pastore rivolse all'Assemblea Costitutiva della CISL di Roma del 30 aprile del 1950. La crisi permane e non è uno slogan. Coloro che si occupano di economia e di lavoro conoscono l'infinita serie di contrazioni nelle possibilità di lavoro, riduzioni di orari, licenziamenti. Sindacalisti, nei vostri centri, piccoli o grandi, non importa, voi siete testimoni del perdurare di tali eventi, per esistere ai quali siete giornalmente impiegati in una dura battaglia. 70 anni e la nostra storia continua e continuerà ancora all'infinito. La storia della CISL oggi è affidata ad ognuno di noi e lo spirito della CISL continuerà a vivere nei nostri cuori e nelle nostre menti anche dopo che avremo concluso il nostro onorevole mandato. Come continuerà ad alimentare le speranze e le certezze di milioni di lavoratrici e lavoratori per un domani sempre migliore per i nostri anziani, per i nostri giovani e le nostre comunità. tuttavia si dovrà restare fedeli alla vocazione CISLina nativa, alla missione che ci è stata affidata nel preambolo e nel capitolo del nostro Statuto. Grazie dell'attenzione che mi avete dedicato, grazie a nome della CISL, della Campania, delle CISL, delle nostre strutture territoriali, delle nostre federazioni, grazie davvero. Grazie a nome di tutte le strutture ma soprattutto giungo a voi tutti un grazie di cuore da parte della Segretaria Generale Doriana Buonavita. Benvenuti in Campania, Buon lavoro a tutti. Grazie. Grazie. Grazie Salvatore. Chiedo alla dottoressa Marciani, assessore al lavoro del Comune di Napoli, di portare il suo saluto. Buongiorno a tutti e a tutti. Benvenuti a Napoli. Ben trovati agli amici che in un'altra veste e in altri luoghi avevo già avuto modo di conoscere e con piacere rivedo qui stamattina. È un'occasione veramente importante quella di oggi che ricorda appunto l'incontro di 70 anni fa su temi, lo ricordava già Salvatore Topo, che sono effettivamente di stretta attualità. Anche il video che abbiamo visto all'inizio parlava di adeguamento della paga. Oggi parliamo di paga da adeguare rispetto al lavoro delle donne, mi viene in mente, ma sono tante le tematiche appunto su cui ancora c'è da lavorare e che credo, soprattutto nel ruolo che ho l'onere, l'onore e la grande responsabilità di rivestire in questo momento, debba contare sulla collaborazione istituzionale. Ho avuto già modo di avere al mio fianco la CISL in tante occasioni sul tema della formazione delle pari opportunità e credo che anche nel tema del lavoro mi dovrò occupare anche di giovani. Il lavoro per i giovani è un ulteriore, se non ancora più importante tema da sviluppare insieme, debba avere questa collaborazione. Quindi spero appunto di poter portare avanti questo lavoro insieme, così come credo che non debba essere dimenticato e anche su questo sia importante un approfondimento e un lavoro da svolgere insieme il tema della sicurezza sul lavoro con tante vittime che appunto purtroppo ogni giorno ci sono non solo nella nostra regione e nella nostra città ma in tutto il paese. Quindi anche su questo credo che sia importante non abbassare l'attenzione. Naturalmente porto il saluto al sindaco che stamattina non è potuto essere qui ma ci teneva appunto a portare il suo caloroso benvenuto a tutti qui nella nostra città e un saluto appunto a tutti coloro che faranno parte del lavoro della giornata di oggi. Grazie e buon lavoro. Grazie. Invito il dottor Giulierini direttore del Museo archeologico che ci ospita. Lo ringrazio per l'ospitalità e la disponibilità. Buongiorno a tutti e benvenuti. Sono molto emozionato nel vedere tante persone e soprattutto dibattere di un tema così importante. Questo settantesimo noi l'abbiamo anche un po' riscoperto attraverso le carte di archivio in questi mesi abbiamo anche fatto queste ricerche e mi premeva solamente ricordare un aspetto di quelle carte e cioè il fatto che il grande Amedeo Maiuri insomma il direttore per eccellenza dell'epoca al quale dobbiamo veramente tantissimo non solo in termini di scavi pompeiani ma anche perché per esempio lui ebbe una grande esperienza nel Dodecanneso e soprattutto per esempio a Rodi insegnò pensate agli artigiani diciamo dell'isola a imitare per vendere diciamo così i vasi antichi quindi questo significa che lui aveva ben chiaro cosa significava anche l'aiuto diciamo alle persone tuttavia di fronte a questa richiesta di questo convegno lì non capì diciamo così non capì e i carteggi chiaramente che i tempi non erano ancora maturi per inserire all'interno del Salone della Meridiana un dibattito contemporaneo non si può d'altra parte come dire giudicare con gli occhi di adesso un comportamento di molti anni fa ma si deve constatare attraverso questo episodio come cambino i luoghi della cultura nel tempo oggi avere un convegno di questo tipo qui al Man non solo è un onore ma è perfettamente in linea con le strategie di apertura degli istituti culturali come è stato detto anche da chi mi ha preceduto che devono non solo aprirsi alla città e ai problemi dell'oggi ma riconsiderare il ieri il passato con occhi nuovi mi spiego meglio con un'ultima constatazione noi stiamo lavorando molto su un progetto che si intitola Le voci dei vinti il museo di Napoli un museo straordinario ha come dire espressione della gloria di Roma ma espressione delle classi elitarie se noi consideriamo il tema del lavoro nel mondo antico è quanto di più antitetico ci sia rispetto a come lo dobbiamo considerare oggi un lavoro che non ha garanzie un lavoro che ha schiavitù un lavoro che ha subalternità un lavoro che non contempla la figura femminile quindi oggi noi e lo dico da archeologo quindi non temo di essere diciamo smentito dobbiamo essere fieri e sentirci fortunati di vivere in questo tempo che ci consente di parlare di diritti ed è ancora più importante che lo si faccia in un istituto culturale che reca la testimonianza di come questi diritti prima fossero negati per cui quando sentite dire che la bellezza salverà il mondo io sono uno di quelli che si arrabbia tantissimo perché se non ci sono diritti se non c'è equipollenza per tutti e la possibilità per tutti di godere della bellezza questa non ha senso quindi vi ringrazio anche per questo aiuto che ci date grazie grazie ancora ora iniziamo questo percorso di ricordo di contestualizziamo insomma cosa è successo quel giorno di 70 anni fa in questo in questo luogo quel giorno in questa sala la parola al professor Carrera grazie diciamo che è un regalo per chi si interessa di storia della Cisla poter essere in questo ambiente in questa ricorrenza perché io conosco ho ben in mente la frase di un antico Cislino di un vecchio Cislino che diceva il congresso è sempre il congresso perché dà il segno dell'importanza delle tornate congressuali ma quello era il primo congresso e il primo congresso non è sempre il primo congresso ecco allora l'accostamento insomma quello che io faccio è semplicemente rileggere il volume degli atti di questo congresso che vedo che poi è noto è citato in vari modi cominciando dalla foto che c'è in copertina si vede questa grande sala perché fisicamente non è la stessa sala perché è quella degli arazzi che è una sala molto nobile che negli atti viene detta come una sala una cornice molto austera una cornice molto austera con una cosa formidabile che sinceramente manca a me oggi ma penso a tutti voi al centro della sala c'era una delle sculture più belle di questo museo quella di di Atlante che regge il mondo e tutti i delegati erano seduti proprio in mezzo sembrava quasi un delegato e qualcuno interviene riprendendo anche la presenza di quella di quella di quella statua cioè l'idea che bisogna affrontare qualcosa che deve reggere il mondo che è un'idea nobile grandissima e che in qualche modo adesso è chiaro che è una forzatura la mia veniva un po' interpretata dal punto di vista sindacale era un nuovo modo di confrontarsi con un mondo che era quello del lavoro che poteva essere retto da spalle forti e nuove per cui la simbologia mi sembra molto molto forte ci sono anche delle belle pagine di saluto a Napoli un po' un po' liriche insomma la bellezza estetica del golfo però anche Napoli proletaria la Napoli del popolo ecco nei vari passaggi che troviamo c'è un precedente e il direttore prima ricordava il passaggio del 1951 a dire il vero era già successo qualcosa in questa stessa sala nel 1945 nel gennaio del 45 ed è una ricorrenza simbolica che forse spiega anche perché la Cisle il primo congresso l'ha voluto fare qua perché nel gennaio del 45 nella stessa sala c'era stato il primo congresso della Cisle Unitaria che allora si chiamava delle organizzazioni sindacali dell'Italia Liberata perché siamo ancora con il fronte che divide il paese ci sono 2000 persone presenti pensate quando era grande quella sala c'erano i comandanti militari alleati per dire no la situazione è ancora di dramma iniziano i lavori con l'inno dei lavoratori l'inno del Piave l'inno di Garibaldi è la Cisle Unitaria è la Cisle Unitaria vengono ricordate le quattro giornate di Napoli poi a un certo punto prende la parola proprio all'inizio a Chille Grandi che rappresenta la corrente cattolica e di fatto la breve citazione che però sintetizzo dell'intervento di Grandi dice qualcosa che era in sintonia con quello che è accaduto poi nel 51 perché dice ciascuno di noi deve deporre le proprie vedute noi dobbiamo tenere le nostre posizioni religiose non religiose politiche però noi dobbiamo vincere ogni passione perché c'è qualcosa di più cioè creare un uomo nuovo un organizzatore nuovo una struttura organizzativa nuova in nome di un'idea di fratellanza ecco un richiamo qui siamo ancora in una fase di guerra c'è il richiamo a un'idea di fratellanza ecco questo è un antecedente non casuale certo il congresso inizia in altro modo con la benedizione per esempio della bandiera della CISL che è stata intessuta da una ricamatrice della Turner che era un'azienda in grave crisi per cui una simbologia forte anche da questo punto di vista e poi il manifesto quello che vedete che è esemplare praticamente quello che è stato riprodotto e vedete lì era il manifesto del congresso ed è la strada che viene richiamata più volte vedete in basso il punto di partenza dove c'è scritto primo congresso nazionale è la meta il punto di partenza uomini liberi nel sindacato libero e poi la direzione qual è perché nel manifesto originario c'è un lavoratore che cammina c'è la figura di un lavoratore e la direzione CISL libertà e giustizia queste sono le chiavi di lettura che lungo la strada incontrano cosa? la citazione che vedete tra virgolette nel manifesto una concreta dimostrazione di democrazia ecco questo passaggio a me sembra molto importante perché spiega il senso il senso che emerge anche guardando per esempio le delegazioni straniere che rappresentavano il mondo libero il mondo occidentale c'erano i rappresentanti delle grandi organizzazioni americane del TUC inglese gli olandesi gli austriaci i danesi gli svizzeri era la scelta di uno schieramento all'interno di un modo di vedere il futuro del mondo occidentale c'è una frase detta da Carran che era il rappresentante del CIO una delle organizzazioni americane allora erano EFL-CIO allora erano ancora separate poi si mettono assieme di lì a 3-4 anni lui dice è più facile votare una mozione contro il comunismo che far lavorare meglio la democrazia questa mi sembra una delle chiavi proprio del congresso come il sindacato il sindacato nuovo la CISL si mette nella prospettiva di far lavorare meglio la democrazia i lavori sono introdotti da Capugi ricordiamoci anche queste figure Capugi era un sindacalista della CISL ma era uno della costituente come pastore sono quelli che hanno fondato anche come dire la cultura e gli assetti istituzionali di questo nostro paese Capugi ricorda i grandi maestri Buozzi ricorda grandi ma ricorda anche Giuseppe Fanin quel giovane che era stato ucciso pochi due anni prima insomma in un'enfasi di violenza politica chi c'era in quella sala? beh le presenze erano tante 768 delegati in prevalenza delle federazioni 446 delle federazioni 322 invece dalle unioni provinciali perché regionali evidentemente non c'erano e le donne? beh le donne erano 36 4,7% prevalentemente nelle federazioni in due federazioni Federtessili e FISBA adesso fai che erano gli agricoli questa era la rappresentanza in nome di 1.800.000 se guardate di qui e di là trovate 1.6 1.7 1.8 Pastore dice 1.800.000 erotti nella sua relazione io prendo quello che dice Pastore lo prendo per buono la prima relazione è di Rubinacci ministro del lavoro che proprio in quei giorni presentava il disegno di legge per l'attuazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione il ragionamento di fondo di Rubinacci è non siete più uniti per cui siete deboli però soprattutto siccome i contratti collettivi non vengono osservati avete bisogno della legge perché senza legge voi non siete in grado di far valere la contrattazione collettiva e questo dà il segno anche del dibattito perché il dibattito va molto in questa direzione perché Rubinacci rivendica il ruolo del Parlamento affidatevi al Parlamento e questa è una delle criticità che il primo congresso deve affrontare e l'affronta Pastore io adesso faccio una lettura cercando di essere veloce ma ci sarebbe tante cose da dire fortunatamente dopo c'è Pinocco Cela che potrà prendere e ampliare tutte le considerazioni che io adesso semplicemente accenno allora rileggo la relazione di Pastore inserendo anche magari gli aspetti di dibattito per semplificare un po' le cose però ci tengo a sottolineare una cosa se negli atti inizialmente viene chiamata la relazione della segreteria confederale poi viene chiamata la relazione morale ecco io sottolineerei questo aspetto perché è tipico delle associazioni sociali andate a vedere che se io l'Avis l'associazione nazionale al P loro fanno ancora adesso la relazione morale che è una sottolineatura importante perché afferma la sovranità dell'assemblea attribuisce un ruolo al delegato nazionale che partecipa dell'assemblea è un ruolo di rappresentanza dei soci in nome dei soci ecco il concetto di relazione morale mi sembra molto nobile ecco rispetto all'impegno che Pastore porta avanti poi la sua relazione sono circa una ventina di punti vi dico i segmenti la prima parte essere liberi ma la libertà dipende da come ci collochiamo nell'assetto istituzionale prima cosa secondo è una questione di fiducia dei lavoratori se non c'è fiducia dei lavoratori noi non siamo liberi e se non c'è anche come dire un assetto politico istituzionale che ci rende liberi secondo punto uno dei critici dei punti più critici è quello dell'organizzazione è vero che c'era già stata a Rimini nell'ottobre del 1950 la prima assemblea organizzativa di cui mi pare che non si è mai parlato quasi che aveva già affrontato tanti problemi tanti temi di tecnica organizzativa però in quel contesto ma anche nel contesto del primo congresso Pastore dice una cosa che bisogna consolidare il costume della vita interna cioè questa è un'idea che dà una dimensione secondo me di comunità a un valore morale a quelli che sono i comportamenti organizzativi e questo rende molto importante ecco riprendo una citazione del professor Saba il più importante storico della CIS dice un primo congresso di quel tipo era drammatico non poteva essere altro che drammatico e dice lo dice anche Pastore siamo qui siamo contenti di aver fondato la CIS ma non dobbiamo compiacerci di quello non basta quello non è sufficiente ecco il concetto di drammaticità anche nell'antica nell'antica Grecia era legato a una vicenda che ha a che fare con la vita reale ha a che fare con la vita reale cioè non si è lì ma d'altra parte il manifesto lo dice c'è qualcosa di concreto in quella strada c'è qualcosa di concreto in quella strada per cui c'è tutto il problema di costruire l'organizzazione nella relazione di Pastore poi l'altra parte la terza è quella di alcune questioni specifiche i contratti agrari il problema del pubblico impiego la questione dei lavoratori meridionali prima di parlare della questione del mezzogiorno parliamo dei lavoratori del mezzogiorno poi si parla di un'altra questione centrale che è quella dei salari e il punto d'arrivo il titolo che era nello scritto nel testo scritto ma che voi non trovate negli atti perché gli atti sono la trascrizione la sbobinatura il titolo dell'ultimo paragrafo la giustizia vera per la pace vera e ricordiamoci che in quello statuto del 51 si parla di pace ed era l'unica volta forse nel modo che uno statuto sindacale nel 51 poneva il problema della pace oltre che quello dell'Europa per cui c'era una sensibilità una grande sensibilità rispetto alle dinamiche complessive e che dire poi ci vorrebbero davvero tante cose mandando rapidamente rileggendo questa relazione morale il primo punto lo sviluppo della CISL essere liberi per poter partecipare essere liberi per fare un'organizzazione che è in grado di costruire una nuova strada di presenza del sindacato e la questione che emerge è la libertà dunque secondo punto la legge sindacale perché qual è il problema che si cerca di far emergere siccome c'è una lunga vertenza della pubblica amministrazione e per risolverla viene quasi naturale il riferimento alla legge un conto è risolvere i problemi anche della pubblica amministrazione per via contrattuale un conto è introdurre una legge che vale per tutti e su questo evidentemente ci sono posizioni diverse che poi sono le due personalità diciamo una consolidata pastore l'altra emergente che è quella di Donat Katten entrambi i fondatori della CISLA che però sulla questione della legge hanno sensibilità diversa perché l'idea di Donat Katten e lo dice nel suo intervento chiaramente che la situazione dell'Italia è talmente difficile è talmente fragile che non ci sono spazi per l'azione sindacale per cui l'azione sindacale essendo fragile essendo la contrattazione troppo debole occorre il sostegno della legge e inizia un dibattito anche vivace se andate a vedere se le mandano a dire il pastore interviene rivendicando invece uno spazio di costruzione di processi contrattuali che possono confermare l'autonomia dell'azione sindacale a prescindere dalla legge poi siccome la questione della legge è in ballo il pastore dice cerchiamo di far sì che la legge qualora venga adottata sia meno incisiva possibile rispetto alla libertà di contrattazione perché questo era il grande snodo l'altro snodo il terzo è quello della politica salariale che era il massimo punto di scontro con la CGL ma questo già nella CGL unitaria già nel 46 si erano divisi perché c'era la maggioranza e la minoranza e il punto era ma che politica salariale facciamo aumenti indiscriminati o teniamo conto dell'inflazione e qui siamo ancora qua cioè nel merito della questione salariale che è sostanza dell'esperienza sindacale e il punto su cui ragiona pastore che poi viene acquisito dal dibattito non bisogna agire solo nei limiti della contrattazione collettiva pensando ai salari come si è sempre fatto bisogna ragionare in altro modo perché dai salari si arriva al rapporto tra i salari e i prezzi per cui la questione è far sì che la politica salariale porti il sindacato il sindacato nuovo agire all'interno del sistema economico nel suo complesso e con tutte le componenti ecco qui si specchia una cultura del new deal direi che è il nuovo unionismo che si può nel problema dello sviluppo di come i lavoratori e il sindacato in quanto rappresentante dei lavoratori può incidere e orientare lo sviluppo e questa è come dire poi ci sono i passaggi insomma sulla produttività il pastore dice anche non si progredisce se il salario è ancorato alla scala mobile e stiamo parlando in una fase delicatissima perché c'è inflazione c'è la guerra di Corea c'è la guerra di Corea e l'inflazione c'è ecco però questa è la prospettiva che secondo me va proprio nella direzione del new deal poi c'è la questione del posizionamento dei lavoratori nell'impresa allora la proposta dei comitati misti di produzione il sindacato non può essere nell'impresa perché non lo accettano allora una proposta che viene dalla CISL di essere presenti nell'impresa con delle strutture neutre per far capire agli imprenditori che i lavoratori possono aiutare le imprese a lavorare meglio a essere più efficienti a prescindere dalla presenza del sindacato perché quello è il presupposto far capire che ci sono delle logiche in cui gli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro non sono confliggenti poi c'è la questione delicatissima della politicità del sindacato ma temo di essere sui limiti del tempo posso riguardo ancora due minuti perché è una questione delicata anche qui il punto di partenza è non fermiamoci alla questione della CGL della DC e del partito comunista queste sono questioni contingenti sembra dire pastori quello che interessa è non ragionare in termini il professor Romani diceva di come dire di rapporti tra sindacato e partito perché non è quella la questione il problema è il rapporto con la società civile il problema è il rapporto con la società civile perché dentro lì trovi la politicità del sindacato come portatore della voce del popolo dei lavoratori perché dentro lì puoi parlare di bene comune altrimenti non riesci a parlare di bene comune se non in questa prospettiva che è quella che dà dignità alla presenza all'interno del sistema democratico ma è anche la questione dell'autonomia perché questa idea di politicità è quella che si muove nella direzione è questa la strada della composizione dei diritti e dei doveri reciproci tra tutti i soggetti che operano all'interno della comunità civile in questo senso certo poi dopo ci sono le accuse uno della stessa segreteria perché il dibattito era vivace come ho già accennato Martone che era bolognese che dice ah ma tu stai portando avanti una sorta di egemonia dell'ADC che prende in mano e il pastore gli dice qui ci sono uomini di tutte le provenienze quel che conta è che si percorra la medesima via ecco di nuovo il manifesto che torna fuori siamo qui abbiamo idee diverse ma la strada è questa l'importante aggiunge il pastore è non essere conformisti essere qui con la possibilità di di lavorare assieme insomma all'interno di questo congresso verso quella strada due battute sulle donne che erano poche però gli interventi che fanno sono molto belli Esther Angelini intervengono due della Federchimici Esther Angelini che dice non pensate di fare le commissioni femminili cioè non metteteci in un ghetto noi siamo dentro noi siamo dentro l'organizzazione e questa sarà una delle grandi questioni che che verrà portata avanti poi della presenza femminile poi Inesferro Inesferro che era la responsabile del movimento femminile è quella che quando pastore sta quasi scusate la digressione ma può essere interessante quando pastore ormai sta quasi per lasciare la cisla lo incontra in un corridoio e dice ma scusa Giulio ma tu pensi che la questione della parità salariale uomo donna sia una cosa giusta e pastore gli dice sì e lei gli dice allora falla e pastore è uno dei protagonisti delle iniziative che nel 61 portano poi all'affermazione formale lo sappiamo che è formale della parità salariale uomo donna bene qui c'è un aneddoto lo so lo leggo perché comunque insomma l'ambiente era quel che era l'ambiente era quel che era per cui la povera Inesferro intervenendo utilizza gli stessi concetti che sono stati utilizzati da pastore anche nella relazione del convegno fondativo della CISL e parla di amore di solidarietà reciproca che ci aiuta a superare tutti gli ostacoli siamo una famiglia sono le stesse cose che ha detto pastore però qui c'è un passaggio nella sbobinatura però parentesi io non raccolgo le interruzioni perché allora dovrei fare dello spirito e non sia non credo sia il caso che se ne faccia vuol dire certe cose un maschietto come pastore le può dire se una donna parla d'amore dopo in sala c'è un po' di agitazione perché il clima era quello insomma la cultura era quella l'altra donna che interviene della Federchimici Vera Cutis che era stata una aveva partecipato alla resistenza ecco dice una cosa che forse mi è sfuggita in qualche altro intervento ma dice il congresso deve dare una linea sindacale diritta e precisa perché dice io sono nelle fabbriche io ho bisogno di una perché io devo tornare ecco di nuovo la via dritta e precisa che deve essere deve essere data poi c'è lo statuto statuto diversissimo da qualsiasi altro statuto precedente perché anche quello dell'LCGL era una tradizione cristiana qui ci muoviamo in tutta un'altra prospettiva lo statuto è l'atto originario che non vuol dire una cosa originale diversa dalle altre originario costitutivo fondativo in cui c'è anche il preambolo che era poi il documento fondativo della CESA concludo in due secondi in un minuto e mezzo il professor Marongio diceva leggendo essendo uno dei grandi interpreti dello statuto dice con lo statuto e con l'articolo 2 in particolare il sindacato entra come componente strutturale della società civile e la completa facendola diventare il luogo della democrazia dispiegata che bello la democrazia che si dispiega perché per essere dispiegata ha bisogno anche i soggetti intermedi ha bisogno della società della società civile insomma ecco una delle chiavi di lettura poi penso che potrà essere ripresa da Marco Romani dopo perché se uno va a rileggere l'articolo 2 dello statuto sembra intrinseco alle biografie dei fondatori cioè loro queste cose le hanno vissute fa parte del loro percorso biografico allora parliamo di pastore parliamo di di Mario Romani ma parliamo di tutta quella generazione che aveva prodotto diciamo quella cultura che ha portato a quello a quello statuto la mozione conclusiva la mozione conclusiva poi è molto concreta c'è una parte sulla legislazione sindacale però ci sono i due punti sostanziali ritiene pertanto il congresso che l'azione confederale nel prossimo periodo intercongressuale debba svolgerci secondo le seguenti direttrici prima elevazione del tenore di vita della classe lavoratrice e miglioramento della distribuzione del reddito nazionale secondo ripartizione dell'onere collettivo secondo criteri di equità sociale sono quelle cose che la vera cutis chiedeva dateci cose concrete allora politica salariale ruolo della contrattazione e così via ecco perché mi sembra che questa rilettura che vi ho proposto ribadisca il titolo dell'incontro di oggi quel congresso è stata una concreta dimostrazione di democrazia grazie 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 per questo percorso perché poi mette in evidenza quanta lungimiranza quanta visione in quella strada che ci è stata tracciata ci è stata consegnata continuiamo questo racconto un protagonista discreto Mario Romani è l'articolo 2 la parola al dottor Marco Romani buongiorno a tutti io devo partire con una premessa con un ringraziamento perché ovviamente la mia presenza oggi qui è una presenza particolare una testimonianza di tipo personale devo ringraziare quindi il segretario confederale che ha accettato questa presenza all'interno di questo di questo programma e di questo convenio quindi veramente lo ringrazio e ringrazio ovviamente tutti voi vediamo questo bisogna averne uno solo acceso sì ecco quando Aldo Carrera mi ha mi ha chiesto diciamo così di contribuire all'organizzazione di questo di questo convegno mi ha messo ovviamente molto in difficoltà perché non sono uno storico di mestiere insomma quindi sono dovuto sono dovuto sono dovuto mi sono dovuto documentare insomma e quindi è quello che ho fatto insomma è quello che poi cerco di rappresentare nel mio intervento insomma augurandomi che tutti voi comprendiate insomma lo sforzo che ho che ho sostenuto e per fare questa cosa come diceva Aldo insomma ho immaginato di dover tornare ai percorsi di vita di Giulio Pastore e di Mario Romani insomma perché all'interno di questi insomma secondo me si trova si trovano diverse chiavi insomma della loro collaborazione e quindi di quello che ha portato poi come sappiamo al contributo di Romani alla storia dell'organizzazione e nello specifico o nel particolare anche alla stesura alla stesura del testo dello statuto e in particolare dell'articolo 2 insomma quindi di questo di questo brevemente cerco di parlarvi partendo da da queste da queste considerazioni nell'autunno del 49 quando a Romani parlarono per la prima volta dell'opportunità di partecipare all'opera di amici che da circa un anno avevano dato vita alla libera confederazione generale italiana del lavoro era un giovane incaricato dell'insegnamento di storia economica presso la cattolica e conosceva poco pastore lo ricorda lui quando scrive la prefazione alla raccolta dei discorsi e degli scritti del fondatore della CISL a cui fu posto il titolo dei lavoratori nello Stato e ricorda anche che fu quella partecipazione e da quella successiva nella CISL che nacque un'amicizia profonda e sincera di cui il tempo gli uomini e le cose non hanno potuto che conferire efficacia di chiarezza e di cordialità nel continuo impulso di comuni ispirazioni più forti di ogni mutamento di impegni o di campi di attività e dichiara anche più da testimone partecipe e appassionato di quell'esperienza personale l'incancellabilità del ricordo della comune dedizione ai grandi ideali dell'incivilimento ci sono dei fattori comuni che mettono insieme queste due queste due figure pur nelle differenze storico-temporali dei loro percorsi di vita ma nelle rispettive formazioni dei loro convincimenti ideali che sono quelli che poi li hanno sempre guidati per ricordare brevemente Pastore non mi rifaccio ovviamente alla sua pericografia ma quanto scrive il professor Marongiu parlando parlando di una cosa che lui dice una questione semplice a denunciarsi ma difficile a decifrarsi si tratta come scrive Marongiu di spiegare come mai tra il 48 e il 50 nasce in Italia un sindacato nuovo un organismo sindacale che rompe radicalmente con ogni tradizione precedente il punto è il salto politico e culturale che si è verificato non si può non riflettere su un fenomeno di rottura dell'esistente di un'innovazione rispetto alle idee del sindacato che c'era quella della CGL quella della democrazia cristiana e del mondo cattolico quella del sindacato visto come istituzione derivante dall'articolo 39 della Costituzione e quindi bisogna chiedersi come Pastore abbia potuto così radicato nel mondo cattolico dirigente della democrazia cristiana esponente di primo piano della corrente sindacale cristiana aderire e mettersi a capo di una complessa operazione politica in contraddizione con le adesioni e le fedeltà che dice Marongiu ognuna di queste sue milizie avrebbe comportato e la sua interpretazione e la sua chiave di lettura e che a Pastore la decisione a questo disegno fu possibile perché quello che reggeva il filo della sua vita era una sostanziale e profonda unità tra i vari campi della sua testimonianza sia religiosa che politica e civile azione cattolica partito sindacato tre milizie e quindi tre fedeltà ma mentre i più andavano alla ricerca di improbabili gerarchie egli forse non dovette affrontare un tale problema unica era la fonte da cui sgorgavano i suoi diversi impegni di vita la fedeltà all'uomo e alle ragioni dei fini comuni che l'uomo persegue nella costruzione di un mondo umano in questa fede umana trovano composizione la sua concreta esperienza di vita e la sua vocazione politica c'è da credere che da questa fede vissuta con umiltà e rigore gli sia venuta quella forza di innovazione che lo colloca tra i leader fondatori di nuovi soggetti collettivi come è effettivamente stato vengo a vengo a Romani Mario Romani nasce nel 1917 in una Milano nella quale i percorsi formativi sono ancora assegnati da fattori come la condizione sociale della famiglia il quartiere dove si risiede oltre che dalle relazioni della vita quotidiana la sua è una famiglia tipica del ceto medio suo padre un dirigente industriale ha un fratello che si avvierà alla carriera militare e una sorella che dopo la scomparsa della madre di Mario a pochi mesi dalla sua nascita deciderà invece di dedicarsi alla famiglia la casa si trova in piazza Wagner nei quartieri di Porta Vercellina e confina con i locali della parrocchia del quartiere confina è proprio è attaccata e la parrocchia è quella di San Pietro in sala come dice una preziosa testimonianza di quello che poi divenne suo cognato perché era un suo amico degli anni degli anni giovanili Mario Mario vide il circolo dell'azione cattolica che stava dentro alla parrocchia lo vide e vide le persone che si muovevano all'interno prima ancora di entrarci le vedeva diciamo così dalla finestra Mario Romani entrò in prima elementare iniziando a frequentare la scuola della dottrina sociale presso l'oratorio maschile di San Michele del Carso al Fopponino decentrato rispetto alla chiesa prepositurale ma la cosa importante è come a quei tempi l'organizzazione dell'attività degli oratori fosse un'organizzazione pensata mirata Don Stefano Rovellini che era il sacerdote assistente impegnato in prima persona e per tutta la sua vita nella federazione diocesana degli oratori milanesi si collocava l'azione dei formatori nella miglior tradizione degli oratori ambrosiani rallegrare istruire educare era il motto che animava le varie attività dopo la fanciullezza ormai vicino all'adolescenza Mario decide di entrare nella sezione degli aspiranti allora in territorio milanese gli aspiranti di azione cattolica venivano chiamati Pinucci questo è il soprannome che gli rimase entrò quindi nel circolo di azione cattolica della sua parrocchia l'unione di cui parlavo prima gli aspiranti che erano tutti i ragazzi compresi tra i 10 e i 15 anni seguivano un percorso educativo basato sul principio pedagogico della collaborazione tra grandi e piccoli dove i grandi avrebbero dovuto imparare a farsi piccoli per poter guidare al meglio i fanciulli loro affidati e quindi formazione sia religiosa che morale che sociale e culturale la protezione della coscienza l'apostolato sociale la cooperazione con l'azione cattolica furono i pilastri della sua preparazione trasmesse in particolare dai preti formidabili che c'erano in quella congere temporale a San Pietro in sala il prevosto Monsignor Magnaghi che l'ha sposato non lo dico per cronaca perché in realtà c'è il matrimonio eccellente anche se tenuto sotto traccia nei registri della parrocchia è quello di Benito Mussorini che a Magnaghi toccò di dove sposare perché all'epoca della sua della sua storia milanese viveva in via Mario Pagano che è proprio nella giurisdizione parrocchiale ma oltre al prevosto soprattutto Don Carlo Gnocchi di cui poi tutti conosciamo la storia e l'importanza delle cose che ha fatto è un compagno di seminario di Don Carlo Gnocchi che fu Don Carlo Dameno il quale soprattutto lo accolse e lo capì applicando un vecchio principio pedagogico quello di San Bernardino da Siena che dice prendi il buono dalle persone e lascia stare il cattivo perché se matura il buono anche il cattivo diventa meno importante dentro a questo modello Romani cresce e si forma completando il suo percorso di studi prima l'istituto tecnico dove l'aveva avviato suo padre ma poi l'università e la laurea che costituiscono lo sbocco di interessi e impegni che si sono andati confermando non solo attraverso l'acquisizione del diploma è scontato il suo indirizzo verso l'università cattolica di cui ricorda l'altissima missione che il massimo istituto culturale dei cattolici italiani compie sia nel campo scientifico che nel campo formativo e di cui condivide l'obiettivo storico che è la preparazione e la formazione come dice di coloro che dovranno occupare i posti di comando nella società indicativo della sua personalità e dei suoi obiettivi di vita e poi il modo con cui compie l'esperienza universitaria quando è matricola da due mesi si presenta al direttore dell'istituto di economia che è il professor Francesco Vito e gli chiede di poter frequentare l'istituto medesimo viene accettato in via sperimentale perché di solito erano gli studenti del terzo e del quart'anno che poi potevano frequentare gli istituti universitari ma sarà proprio Vito colpito dall'assiduità e dall'impegno che gli farà compiere le prime ricerche sistematiche come si fa per insegnare il mestiere dello storico dopo la tesi di laurea che gli sarà pubblicata fa una ricerca sull'economia antica la distribuzione dei fenomeni economici in età romana che viene apprezzata anche dal suo professore con cui si laura che è Fanfani e un'altra relativa all'età moderna pellegrini e viaggiatori nell'economia di Roma che il professor Carrera considera uno dei primi manuali sul turismo mai scritti stiamo parlando del XIII e del XIV secolo ma poi sceglie la specializzazione di storico dell'età moderna contemporanea di quelli che chiamerà sempre con convinzione maestri si possono scorgere alcune influenze specifiche che hanno caratterizzato la sua formazione da Vito impara la cultura economica nella comprensione dei legami interni ai fenomeni economici e della loro evoluzione nel tempo da Fanfani impara il mestiere dello storico in primo luogo la metodologia della ricerca da padre gemelli l'attenzione ai problemi del lavoro e a studiarli come aspetto centrale della vita degli uomini da tutti e tre il rigore estremo nel pretendere il massimo da sé per pretendere il massimo da chi accetta le regole del lavoro scientifico quando alla fine del 45 Romani rientra in Italia dalla prigionia a 28 anni gli stimoli che ha ricevuto e ricepito nella fase della sua formazione morale e culturale giovanile si sono ulteriormente radicati e aggiornati anche attraverso l'esperienza che gli capita di fare in prigionia questa esperienza è indicata da varie fonti come l'occasione che avrebbe avuto per accostarsi direttamente al mondo degli studi americani sul fenomeno sindacale in particolare a quelli della Wisconsin School anche se sembra difficile francamente che possa aver avuto la possibilità di significativi rapporti con il mondo universitario americano il suo campo peraltro stava nel sud degli Stati Uniti quindi fisicamente lontano anche dalla scuola del Wisconsin però certamente quell'esperienza gli ha consentito degli approfondimenti quando torna al suo ambiente si dedica all'insegnamento prima come assistente poi come incaricato e alla ricerca e trova modo di dare consistenza organizzativa e strumenti adeguati all'approfondimento delle sue conoscenze in quell'area di interessi che si definirà rapidamente nella direzione dei problemi del lavoro e dell'azione sindacale la costituzione del suo modello organico di azione sindacale si realizza attraverso tre passaggi tra loro connessi nel 47-48 è il laboratorio di realtà sociale d'oggi rivista dell'ufficio studi del centro regionale lombardo dell'ICAS l'istituto cattolico di attività sociale che gli consente un'intensa accumulazione di conoscenze e la formulazione delle prime interpretazioni personali la più centrale delle quali è quella relativa allo strato di crisi in cui versa il sindacato italiano nell'immediato dopoguerra la fine dell'esperienza unitaria tentata nel 44-48 è vista come il determinarsi della condizione necessaria per rirrompere della grande innovazione che prenderà corpo con la nascita della CIS l'altro è la pubblicazione nel 51 degli appunti sull'evoluzione del sindacato con cui compie una ricostruzione delle linee di sviluppo del fenomeno sindacale dalle origini fino alla fine degli anni 40 nel disegnare questa evoluzione adotta alcune categorie unificanti la cui varietà delle esperienze che storianamente si sono determinate raggruppa intorno a queste appunto categorie natura e fini dell'azione sindacale rapporti tra sindacato stato e partiti politici rapporti tra sindacato e ambiente economico e il terzo passaggio è il saggio intitolato tendenze e linee di sviluppo del movimento sindacale che esce nel 51 in presentazione di sindacalismo che è la rivista culturale della CISL dove si coglie la concezione romaniana del sindacato e del suo sviluppo ulteriore non si tratta di una nuova teoria del sindacato ma dell'individuazione di una prospettiva politica all'azione sindacale da praticare all'interno e in coerenza con una società democratica quindi questo è il percorso di maturazione delle sue idee e quindi arriva il momento di passare dalle idee e dai progetti organici all'azione e quanto Romani farà dall'interno della CISL fin dall'inizio della sua collaborazione ma anche successivamente quando finisce la sua collaborazione e fino alla sua di fine con una partecipazione in piena libertà in piena autonomia come privati cittadini muovendo da concezioni e mode di vedere la realtà ben noti e come dice il titolo dell'intervento che ha scelto Aldo Carera appunto una partecipazione discreta l'articolo 2 dello statuto approvato nel primo congresso confederale che qui oggi si ricorda e che pastore fa sapere essere stato predisposto dall'ufficio studi da alcuni colleghi dice ne rappresenta emblematicamente una sintesi ideale e programmatica la novità più importante come la definisce Ermanno Trebbi uno dei componenti della commissione che era composta dallo stesso Trebbi da Coppo Cavezzari Cappugi Annesi e Pinci che esamina il testo dello statuto che viene approvato e cito una della relazione di Trebbi cito questo passaggio che mi sembra importante la nostra organizzazione sindacale ha voluto esporre chiaramente e partitamente i principi sui quali si fonda coloro che si limiteranno a leggere questa parte dello statuto senza sforzarsi di penetrare nell'intima sostanza potranno anche pensare ad affermazioni di carattere puramente teorico magari utopistico ma se essi porranno mente ai motivi vivi e profondi che ci hanno spinto a dar vita a questa nostra organizzazione sindacale si convinceranno subito che una parola nuova chiara e sincera doveva essere detta per caratterizzare la nostra azione e soprattutto per indirizzare alla meta prefissa tutti i nostri sforzi grazie grazie l'articolo 2 del nostro statuto e il nostro manifesto a noi hanno insegnato così proseguiamo il nostro percorso con il professore a cocella che ci racconta di questa giornata indimenticabile grazie 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 i legami io sono ormai un vecchio della Cislo ho 50 anni di iscrizione quindi tu non ci arriverai mai Guardi Quindi ho il piacere di rincontrare tanti amici, di vederli e poi di essere invitato in un momento significativo in cui ripetiamo su cosa è stata la CISL, perché quello di cui stiamo parlando 70 anni fa è il congresso fondativo della CISL. Le dirò perché nel novembre 51 siamo nella fase fondativa, benché come è noto la CISL nacque il primo maggio, la scelta della data non fu casuale perché il primo maggio era appannaggio della tradizione comunista e fu scelto quello al Teatro Adriano di Roma, primo maggio 1950, per la nascita della CISL. Mi permetterete, senza far torta a nessuno, di rendere omaggio ad Anna Maria Furlan, che appunto è qui presente e di cui le sono grato. Allora, io vorrei innanzitutto, come dire, perché è una giornata indimenticabile. Aldo Carrera nella sua perfidia mi ha assegnato d'imperio questo titolo, perché non l'avevo scelto io Aldo. Però è stata una giornata indimenticabile, perché nel contrasto che ci fu in quel congresso, e di cui Carrera ha già dato, come dire, gli elementi essenziali, si registrò, come dire, un passaggio fondamentale, perché furono poste le basi della identità CISLina. E' in quel congresso che i nodi della scissione, poi della scissione con la Libera CGL, e poi della costituzione della CISL insieme a FIL e a USAI, quindi a due organizzazioni sindacali del mondo socialdemocratico, laico-repubblicano, che in quel periodo non avevano proprio grandi consentimenti, dopo quello che era successo nel 48 con l'area cristiana, chiamiamola così col sindacalismo cristiano. Ebbene, quello fu il congresso in cui si registrò questo passaggio del rubicone, il distacco dalla tradizione sindacale cristiana, e il confluire di quel patrimonio di motivazioni, di etica, di morale, di ragioni di vita, all'interno della nuova organizzazione della CISL, che doveva assumere quei caratteri. Voglio anche dire, a che ci serve oggi riflettere su quel sindacato che si volle chiamare libero? Il sindacato, prima la Libera CGL e poi la CISL, si vollero chiamare libero perché sceglievano, nell'ambito, come dire, delle lotte che la classe lavoratrice doveva fare, uno dei due campi, non quello costretto, quello che faceva riferimento alla tradizione comunista internazionale, ma il campo libero. Pastore, al Teatro Adriano, aveva detto nel suo discorso, e Aldo Carrera, come dire, mi conforterà, aveva fatto un passaggio fondamentale, aveva detto, ci dicono che siamo contro il libero mercato, noi non siamo contro il libero mercato, noi siamo contro le ingiustizie che il libero mercato provoca, perciò siamo contro il capitalismo. Quindi Pastore già dava una linea, essere dalla parte dei lavoratori, sempre, ma nell'ambito di una circolazione libera dell'economia, e quindi delle prospettive che le classi popolari dovevano avere. Don Pierfrango Pastore, una volta il figlio, che molti ricorderanno perché ha celebrato per tanti anni il ricordo di suo padre in una messa a San Carlo al Corso, mi disse una volta, in cui ci vedemmo che il padre gli aveva raccontato che quando cominciavano queste fibrillazioni, il mondo DC era un grande mondo, un sacerdote a cui lui teneva molto, come gli fece notare, che lui rischiava di essere troppo comunista per gli ambienti cattolici, troppo clericale per gli ambienti sindacali. Questa fu la grande scommessa che in qualche modo, anche sotto il profilo personale, come ci ha ricordato adesso Marco Romani, questi che hanno creato la Cisla avevano una formazione cattolica, sapevano di dover portare il patrimonio ideale del sindacalismo cristiano nella nuova organizzazione, ma non che dovesse essere un'organizzazione confessionale, cioè dovevano travasare questo grande patrimonio nelle forme, come dire, che la laicità dell'azione sindacale richiedeva, quindi una nuova cultura sindacale. Parliamo di sindacato libero, ne dobbiamo parlare dopo 70 anni, quando invece si fanno più forti le ombre in cui la parola libertà viene usata in modo molto differente da quella in cui la usavano i padri fondatori della Cisla. Oggi si parla di libertà di licenziare. Io ho letto un documento di alcuni economisti americani, che mi è stato mandato da un collega, in cui affermano che nelle libertà fondamentali ci deve essere la libertà di licenziare a seconda della convenienza economica. Cioè è giusto il contrario di quello che un'organizzazione sindacale degna di questo nome può proclamare. Quindi la parola libertà voglio anche sottolineare, l'ho detto anche in altre occasioni, come a me pare molto significativo che Giulio Pastore, un uomo del nord, formatosi in Piemonte, nel 1949, cioè prima della nascita della Cisla, va a Bergamo e fa il famoso discorso di Bergamo che è contenuto in quel volume i lavoratori dello Stato che ha ricordato Marco Romani e dice ai lavoratori di Bergamo, ai lavoratori di Bergamo sono proprio nordisti nordisti, insomma, dice ai lavoratori di Bergamo non potrete mai stare tranquilli se prima non si libera il mezzogiorno dalla schiavitù, perché lì per i lavoratori non c'è quello che voi conoscete, c'è la schiavitù. Quindi un uomo del nord che ai lavoratori del nord gli fa un discorso di grande fondazione di quello che un sindacato deve sempre perseguire, cioè la solidarietà tra gli uomini del lavoro. Ecco, questo solo per dire in qualche modo come si profila la necessità che la OSR e la segreteria confederale hanno qui, diciamo, riconosciuto, cioè di fare questo ricordo dei settant'anni del congresso, perché la scommessa era che non sulla base ideologica, sia essa quella marxista o sia quella cattolica, non importa, ma non su base ideologica, ma sul primato dell'esperienza andava costruito il sindacato. Questo anche nei confronti delle grandi matrici politiche che se venivano rimproverate alla CGL, perché subalterna a Mosca e all'area comunista, non potevano però, come dire, essere riflesse contraddittoriamente in una propria subalternità al partito che pur esso era di ispirazione cristiana. L'area di famiglia c'era, le storie personali, come dire, dei sindacalisti cislini erano sicuramente affondate nelle radici di cui faceva parte anche la generazione della DC, dei costituenti DC, però con una certezza che il sindacato dovesse essere soggetto diverso, ma non minore, rispetto al partito. Qui c'era tutta la cultura costituente, io credo, ne farò un accenno il 24 novembre quando faremo il seminario sui 70 anni del centro studi, perché c'era una cultura dei costituenti, in specie i costituenti cattolici, quel Fanfani che era stato professore di Mario Romani, Aldo Moro, Giuseppe Dossetti che ebbe una grande influenza su Giulio Pastore, beh, quei costituenti vollero a tutti i costi che nella Costituzione fosse inserito un discorso sulle forze intermedie, cioè sul fatto che lo Stato non è composto dallo Stato e dagli individui, e gli individui poi solo attraverso i partiti vivono la vita della democrazia, ma che c'è una pluralità di realtà sociali, prime tra essi il sindacato, che costituiscono a comporre non la democrazia dei giorni di festa quando si va a votare, ma la democrazia di tutti i giorni quando ci si batte la condizione di vita dei lavoratori. Ecco, a me pare che questa cultura, come dire, che era molto cattolico-democratica, fosse anche comune ad una generazione. Io non ho letto, ma forse va letto, perché tu, Aldo, hai letto quanti scritti c'erano, ci dovrebbero essere, però vorrei che ricordassimo tutti chi erano gli uomini che costituirono la prima segreteria confederale, perché fu la prima in realtà, perché il primo congresso fu quello, quelli di prima erano, diciamo, ad nutum. Pastore, Morelli, segretario aggiunto, Storti, Coppo, Cuzzaniti, Parli, Canini, Caglielli, Cavezzali e Rocchi in quanto direttore del conquista del lavoro. Una scelta importantissima perché Rocchi e Canini garantivano la continuità della presenza dei laici socialisti all'interno, come Consoni, del resto all'interno della Cisla. Ebbene, allora, se debbo dire anche perché lo statuto, un altro accenno, lo statuto viene fatto solo il primo anno, tutta la tradizione sindacale europea, Aldo, dammi ragione, ti prego, era fatta così, prima ci mettiamo a tavolino e stabiliamo quali sono i caratteri dell'organizzazione a cui vogliamo dar vita. Normalmente sono uomini di partito, i socialdemocratici in Germania, prima ci mettiamo a tavolino, vediamo qual è l'identità da far, come dire, circolare e facciamo lo statuto. Nella Cisla il cammino di un primo anno e mezzo comincia senza statuto. Voglio dare una testimonianza che, come dire, può servire. Quando era in vita ancora Onofrio Spitaleri, che pochi ricordano, che era stato segretario della Cisla di Avellino, primo reggente coordinatore della USR Cisla Campania, ma che la sua esperienza sindacale l'aveva fatta in Sicilia, che aveva vissuto il trapasso tra Libera Cigelle e Cisla, Spitaleri mi disse, ma quello che noi sentivamo, che ci dicevano, proprio anche in assenza, diciamo così, di uno statuto, era che era proprio la nostra esperienza, quella che facevamo sul campo che doveva servire a dare le idee perché quel comitato poi scrivesse la bozza di statuto. Guardate che è una straordinaria intuizione, l'esperienza sindacale viene prima dei progetti a tavolino e questo un tempo, io me lo ricordo quando ero segretario generale della Cisla Università, veniva imputato come un'offesa ai Cislini, il pragmatismo, ne ho parlato mille volte con Franco Marini, pragmatismo non è una brutta parola, è una bella parola, perché pragmatismo significa che sei capace di vivere storicamente quello che vuoi ottenere, cioè di adattarlo, di restare fedele come dire ad una linea però in qualche modo essendo capace di orientarla e di aggiornarla. Di qui l'avversione alla legge sindacale. Aldo ha ricordato che Rubinacci, Leopoldo Rubinacci che è un personaggio di peso, insomma un napoletano dell'area come dire sociale dell'ADC andò a presentare il suo progetto di legge che come è noto fece una brutta fine proprio per l'opposizione dei sindacati anche se la CGL ha avuto momenti di fibrillazione in quel senso poi proprio che era democristiano Rubinacci è stato respinto ma se no lo avrebbero assecondato e poi la legge erga omnes del 59 perché il ragionamento che tu Aldo hai ricordato di Rubinacci era il medesimo poiché voi siete sgangherati adesso vi facciamo una legge per cui i contratti che farete intanto avranno valore in quanto poi il Parlamento li approva questa era la legge del 59 il ragionamento che tu hai fatto tu di Rubinacci nel 51 è il medesimo brigliatevi in una legge sindacale perché voi siete robetta e quindi è meglio che abbiate l'aiuto dello Stato ebbene in quel congresso tu hai esibito gli atti che io ho studiato quando scrissi la storia della Cisla e poi l'ho rivista adesso lì c'è un forte dibattito sul tema istituzionale noi siamo fedeli alla democrazia questa è una repubblica nata da una grande lotta contro il totalitarismo dunque e no dunque no perché noi siamo questi ma non siamo esauriti dalla vicenda istituzionale perché noi siamo la realtà sociale tra l'altro realtà sociale è un nome che ricrotorna spesso anche in piccole riviste in piccoli bollettini e così via per queste ragioni diciamo lo statuto non nasce in questo senso ma nasce e badate è solo su questa base che poi io posso affermare i grandi principi della Cisla perché perché il principio di associazione nella tradizione sindacale c'è il fatto apparteniamo alla classe lavoratrice punto e basta è il movimento poi ci sono quelli che si scrivono ma è secondario perché noi rappresentiamo e invece se le forze intermedie si devono esprimere nel quadro costituzionale devi sapere chi rappresentano di qui le cautele verso una legge sulla rappresentanza sindacale e invece la rappresentanza è quella che noi esprimiamo con gli scritti il principio di associazione adesso per tradurla nel linguaggio dei colti così come è solo se noi diamo autonomia in qualche modo a questa rappresentanza e le tue azioni che la contrattazione badate può diventare fonte di diritto i vecchi giuristi questo Pietro Rescigno credo lo abbia definitivamente fatto capire a tutto il mondo dei giuristi i vecchi giuristi pensavano solo in termini di gerarchia delle fonti di diritto a seconda della fonte istituzionale che emana la legge quella si colloca invece c'è un'altra fonte di diritto è la contrattazione e per questa strada Marco Romani che entra la scuola di Wisconsin che era una scuola economica entra per questa via come dire più giuridica per cui anche il contratto e fonte di diritto va riconosciuta dai tribunali che è stato un processo degli anni 50 lunghissimo che poi dopo il fallimento della legge erga omnes quattro volte fu applicata e poi basta ebbe successo ecco io su questa base vorrei ricordarvi come dire il fatto che l'associazione per esempio significa che ci organizziamo per categorie che noi non siamo lavoratori genericamente lavoratori che aderiscono alla Camera del Lavoro no noi siamo lavoratori nella nostra concreta esperienza nella nostra individualità io sono chimico io sono universitario io sono vigile urbano e nella nostra età poi ci riuniamo nell'assetto confederale badate che c'era anche un quadro internazionale allora che non era di facile soluzione perché la collocazione internazionale come dire vedeva in quel momento tre grandi centrali mondiali i sindacati cristiani i sindacati obbedienti a Mosca certo se c'è qualche amico come dica a simpatia per tradizione comunista non è che poi andrà a parlare bene di me in giro ma insomma si chiama così tradizione comunista e poi i sindacati che venivano detti dell'area del libero mercato mondo libero l'Inghilterra la trade union l'america le fc fc io perché dopo erano separate quando tu hai detto al congresso della cist poi si riunificarono pochi anni dopo e la cist che doveva scegliere guardate che ci fu un momento molto proprio nei giorni del congresso gonella che era un pezzo da 90 dell'adc andò in un convegno e disse il sindacato sarà cristiano o non sarà criticando la posizione della CISL fatta per quattro quindi da cattolici che aveva detto no il sindacato sarà dei lavoratori o non sarà e nel congresso appunto tu lo hai accennato lo scontro con i rapelliani quelli che invece volevano il sindacato cristiano rifacendosi a quella nobile figura che fu Giuseppe Rapelli ebbe poi il torto come di degli avvenimenti fiat insomma però Rapelli era una gran bella figura di resistente e di antifascista Rapelli era per il sindacato cristiano e il suo allievo si chiamava Carlo Donacatten Carlo Donacatten si scontrò nel congresso come tu hai ricordato con Giulio Pastore perché perché i due assi su cui la CISL stava marciando non gli andavano bene sindacato cristiano e legge sindacale perché Donacatten era chiaramente per la legge sindacale ebbene che succede che si crea una saldatura in congresso col gruppo dei socialdemocratici Binotti però era Anselmo Martoni quello che contava di più di Molinella non diciamo delle milioni di Molinella e Binotti Bartoletti questi fanno fronte comune e dicono carità sindacato cristiano allora ci volete far fuori perché erano di provenienza fil cioè socialdemocrati e legge sindacale sì perché Martoni era per la legge sindacale Pastore fu come dire inamovibile tra l'altro in quel periodo c'erano pure le critiche di Sturzo che era un monumento insomma con tutta l'autorità morale che lo contraddistingueva fu molto polemico con Pastore per esempio sullo sciopero dei pubblici dipendenti e sugli aspetti appunto dell'adesione o meno ai principi del sindacalismo cristiano per la verità Sturzo non era stato proprio tenero col sindacalismo cristiano nel prefascismo detto questo quando lo attaccano questi Pastore tiene duro e dice no e Pastore era un baciapile nei confronti a me era proprio sacrestano io sono cattolico ma già cattolico diciamo dell'età laica invece Pastore e nonostante questo Pastore regge rispetto a questa richiesta di confessionalità e dice no il sindacato deve essere un sindacato aperto a tutti quanti i lavoratori è la condizione di lavoratori che sta al centro non quello se siano meno orientati verso il regno dei cieli e quindi in questo senso poi ebbe il sostegno di Canini e di Rocchi che erano due personaggi importanti di provenienza diciamo di provenienza Filla io ho un'interpretazione tra Pastore da una parte e Dona Catten e Martone dall'altra perché Pastore e qual è l'elemento che caratterizza l'atteggiamento di Pastore verso gli altri Pastore a differenza degli altri anche di Dona Catten badate Martoni se ne uscì dalla Cisle Dona Catten rimase e fu protagonista insieme a Pastore di quel grande episodio del 58 alla Fiat quando i metalmeccanici si misero in una posizione filopadronale e Dona Catten e Pastore non ebbero esitazioni come dire a rompere i pod Dona Catten rimase dentro rimase fedele ai principi diciamo dell'organizzazione Cislina quindi questo va detto però in realtà Pastore aveva una cosa in più aveva fiducia nell'avvenire della Cisle io lo dico semplificando cioè Pastore come tutti quelli che insomma hanno attributi rilevanti sapeva guardare oltre le apparenze guardava il futuro Pastore ha delle pagine straordinarie che per uno che è autodidatta anche se De Cesaris le mani ce le mise nelle cose che scriveva Pastore però ci sono delle intuizioni fulminanti che senza dubbio si debbano a lui uno capace di guardare oltre essendo un autodidatta che aveva fatto poche scuole Pastore sa guardarlo a fiducia nell'avvenire sa che la Cisle sta facendo un passaggio difficilissimo una cultura sindacale che non è dipendente dalla tradizione cattolica una cultura sindacale che si apre come dire a un mondo diverso come quello diciamo così di ispirazione anglosassone eppure la persegue a fiducia nelle capacità del sindacato e della Cisle fa una grande scommessa e come si sa quelli che poi restano nella storia sono quelli che le scommesse le fanno e le vincono quelli che non fanno scommesse o le fanno e le perdono difficilmente poi restano nella storia ecco io non so se le poche cose perché ovviamente il tempo è quello che è ma che mi ero permesso diciamo di concepire fossero sufficienti a capire perché questi 70 anni sono importanti perché il primo congresso nazionale ha avuto un momento decisivo anche i lavoratori che costituiscono la base sociale io a suo tempo li analizzai ma non ho avuto diciamo il tempo ma che costituiscono la base sociale della Cisle sono sostanzialmente di una realtà nuova siamo nel secondo dopoguerra rispetto a quello che aveva costituito il sindacalismo cristiano io andai a vedere a suo tempo gli iscritti alla CIL la Confederazione Italiana dei Lavori di Grandi Achille Grandi che è stata l'immediata diciamo così progenitrice della libera CGL e della Cisle ebbene erano condensati in due tre settori non di più ferrovieri lo snom famoso di Italo Mario Sacco i ferrovieri diciamo che non erano proprio rispetto ai ferrovieri comunisti insomma una grande entità i tessili perché c'era la grande tradizione lombarda Achille Grandi veniva di lì e un altro paio diciamo di federazioni la Cisle non è così la Cisle come si allarga a settori prima come dire impediti al sindacalismo cristiano e lo può fare grazie appunto alla nuova cultura sindacale con cui si presenta che è una cultura sindacale non vincolata poi potremmo discutere abbiamo fatto ti ricordi Aldo anche il centenario della CIL perché merita di essere fatto ma sicuramente l'impostazione è un'impostazione diversa cioè quando nel secondo dopoguerra si pone il problema dei cattolici nei tempi nuovi come poi il concilio come si incaricherà di affermare si diceva questo in fondo la Gaudium et Spes riletta questa luce probabilmente fa capire a noi che questi cristiani come pastore come gli altri erano insomma gente che sapeva interpretare anche quella loro fedeltà concludo quindi lo statuto originario della CISL che viene nel novembre un anno e mezzo dopo la nascita della CISL al teatro Adriano viene costituito e questa è una cosa che perciò avevo creduto che quella foto di cui parlammo fosse del primo congresso invece probabilmente era di un altro però io ricordo che Mario Cirio che aveva da giovanissimo Mario Cirio per quelli che sono troppo giovani nel segretario generale della USR Campania che per lunghi anni dopo diciamo poche dopo la leadership di Colasanto in fondo c'è stata quella di Mario Cirio in Campania e Mario Cirio mi confermò mi confermava questa cosa che loro lo statuto lo interpretarono come qualcosa che dovesse riflettere in qualche modo diciamo così la verità nuova della CISL ma che anche rispetto alla corrente cristiana che aveva fatto la Libera Cigelle era già una cosa nuova e non perché insomma per quattro militanti della FIL o dell'USAI non è questo era il significato diciamo così che assumeva quella cultura il sindacato nuovo perché noi abbiamo sempre usato questa espressione il sindacato nuovo perché si fonda su un patto associativo e non su un'adesione mitologica alla classe operaia e perché l'insistenza sulla partecipazione dei lavoratori e sulla democrazia economica che diventano elementi importanti diciamo così della cultura della CISL sono gli elementi per cui anche rispetto al quadro istituzionale nel quale si è profondamente inseriti fedeltà alla Costituzione fedeltà alla Repubblica metteteci tutte le fedeltà istituzionali che volete però però rispetto ad istituzioni e a partiti conserva la sua libertà Mario Cirico era un democristiano proprio di quelli che qualche volta mi faceva irritare ma e tu forse qualche ricordo ce l'hai ma era capace di manifestare una tale libertà nei confronti della regione quando era guidata dai democristiani nei confronti del porto quando era guidato da un presidente nominato democristiano sempre io che ci sono stato vicino per anni lo ricordo appunto come un figlio di questa cultura sindacale che grazie a quello che avvenne 70 anni fa ancora noi che come dire siamo militanti iscritti della CISL possiamo ancora dire di poter godere grazie 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 per questo bellissimo ed emozionante percorso la parola al nostro segretario generale Gigi Barra per le conclusioni ma tanto vorrei dire grazie grazie veramente di cuore anche a nome della segreteria confederale alle amiche e agli amici del comitato esecutivo per la presenza per questa importante partecipazione al seminario che abbiamo pensato di promuovere di organizzare grazie alla CISL Campania per averci aiutato a rendere possibile questa questa giornata un ringraziamento speciale al direttore del Museo archeologico nazionale di Napoli per l'ospitalità in questa bella magnifica sede la stessa di 70 anni fa un'emozione unica si diceva grazie per la presenza ad Anna Maria Furlan una presenza voluta dalla segreteria confederale con Anna pensavamo già un anno fa di organizzare adeguatamente il ricordo dei 70 anni della nascita della CISL che abbiamo dovuto spostare per le circostanze legate alla drammatica emergenza sanitaria e pandemica però permettetemi diciamo prima di iniziare di rivolgere un pensiero commosso ad un amico ad un collega che oggi purtroppo non è qui con noi e che avrebbe gioito di questa giornata un collega che sulla nascita della CISL sulla figura di Giulio Pastore di cui fu stretto collaboratore è intervenuto tante volte ha scritto tantissimo parlo di Franco Marini parlando della nascita della CISL Marini amava descrivere indicare valutazioni formidabili molto molto belle richiamava proprio sulla nascita della CISL quella formidabile intreccio di circostanze e di uomini di aspirazioni ideali e di lungimirante prospettiva storica cui tutti i lavoratori l'intera società italiana la comunità nazionale diceva Marini vorremmo guardassero col nostro stesso ammirato rispetto ecco io penso che lo stesso ammirato rispetto è quello che oggi noi rivolgiamo a Franco dedicandogli con l'amore dei discepoli l'iniziativa e la giornata di oggi la qualità degli interventi di Aldo Carrera di Pino Acocella del dottor Romani non hanno sicuramente bisogno di aggettivi e richiamano secondo me in maniera precisa lo spirito che volevamo dare a questo incontro un piglio militante vivo attualizzante che conferma come la memoria si diceva molto bene negli interventi quando è ben coltivata e valorizzata non è qualcosa che si protegge ma al contrario è qualcosa che ci protegge che ci aiuta a testimoniare quotidianamente la nostra azione di rappresentanza sociale e sindacale perché diciamo questo perché noi siamo fortemente convinti che le nostre radici il nostro tratto identitario valoriale non sono ruderi da contemplare ma il cuore pulsante della nostra identità un faro che continua a orientarci che dà saldezza forza al nostro fare al nostro essere che ci ispira ci parla da vicino ci incoraggia a proseguire le nostre iniziative e questo è reso più attuali in questi anni difficili drammatici cruciali che stiamo vivendo e che stiamo attraversando anni che trovano tanta corrispondenza con la delicatissima fase storica in cui si svolse il primo congresso della CIS quando nel novembre del 1951 Giulio Pastore apre i lavori della CIS congressuale l'Italia si stava rialzando diciamo dalla peggiore catastrofe della sua storia e con essa anche l'Europa noi dobbiamo creare tutto dal nuovo affermava Pastore nella sua prima relazione congressuale tutto dal nuovo perché non c'era passato cui far ritorno la terra promessa dei nostri pionieri a partire da Achille Grandi era stata raggiunta il 30 aprile del 1950 e non si poteva restare fermi ogni vela del paese ogni forza istituzionale politica e sociale andava orientata nella stessa direzione per dare all'Italia e al continente un futuro diverso e migliore a pochi anni dalla fine del conflitto mondiale il continente era devastato l'industria nazionale era a pezzi la classe dirigente tutta da ricostruire e la risposta della Cisle non si fece attendere fu forte determinata convinta su alcune grandi parole su alcuni forti richiami protagonismo europeismo pragmatismo personalismo parte da questi riferimenti il cantiere della nuova casa del lavoro una struttura associativa emancipata da fallaci missioni storiche e dai condizionamenti dei partiti un'organizzazione pienamente fieramente autonoma contrattualista pluralista aperta al sindacalismo riformista internazionale pronta ad esercitare il proprio ruolo in modo libero competente mai mai subalterno alla politica e ai partiti negli anni 50 si ricorderà c'era un'Italia repubblicana da edificare insieme a un'Europa comunitaria tutta da costruire l'una e l'altra per la Cisla andavano erette sulle fondamenta di una politica inclusiva e di una rappresentanza sociale generativa di un'economia mista come la chiamava Mario Romani cioè un modello non consegnato né allo statalismo dirigista e liberticida né al liberismo predatorio e disgregante ma piuttosto ad un vero assetto istituzionale pluralista in cui il soggetto pubblico doveva avere un ruolo ben definito in ragione del libero agire degli attori privati è la base di un'economia sociale di mercato che vede nella partecipazione nella responsabilità dei corpi intermedi un motore dello sviluppo una stella polare che orienta da sempre l'agire della Cisla e che ha dato vita a grandi momenti di rigenerazione e di riscatto nazionale che ci ha fatto superare gli anni bui del terrorismo le difficili crisi economiche politiche degli anni settanta che ha illuminato negli anni ottanti il pensiero di Ezio Tarantelli che ha permesso negli anni novanta la realizzazione della stagione della concertazione pensiamo che seguendo questa bussola noi oggi dobbiamo nuovamente ridefinire equilibri che in questi anni sono andati spostandosi altrove nelle rendite speculative e parassitarie nella svalutazione del ruolo del lavoro in politiche comunitarie ciecamente rigoriste antisociali tecnocratiche nell'incidere di quella logica dello scarto denunciata da Papa Francesco e il risultato di questa deriva è stato come sappiamo l'aumento vertiginoso delle diseguaglianze delle povertà dei divari nelle nostre comunità che ha prodotto in questi anni effetti assolutamente devastanti anche oggi come settanti anni fa dobbiamo costruire dal nuovo certo non tutto come allora il contesto è diverso e dietro di noi non ci sono le bombe della guerra non c'è l'occupazione nazifascista né un ventennio di dittatura ma le analogie non mancano con quella stagione ce lo ricordano i tanti scomparsi donne uomini giovani e lavoratori tanti pensionati il cui lavoro ha fatto grande questo paese ce lo rammenta e ce lo ricorda un tessuto produttivo che si è sfibrato indebolito una struttura sociale in drammatica trasformazione e fibrillazione e ce lo ricorda una crescente ripeto disuguaglianza ulteriormente accelerata in questi pesanti 18 19 mesi di pandemia ci avvicinano a quegli anni anche le epocali transizioni tecnologiche industriali energetiche ambientali demografiche che esercitano spinte centrifughe sul mercato del lavoro e sulla struttura sociale del nostro paese spinte che noi dobbiamo governare armonizzare nel solco della piena sostenibilità sociale remare uniti per mettere il paese in solidità riscattare le realtà più fragili del lavoro della disoccupazione delle famiglie degli anziani questi sono strumenti che noi dobbiamo rafforzare in una dimensione universale con maggiori protezioni sociali e dobbiamo incalzare di più e meglio l'Europa perché sia una vera Europa dei popoli perché sia una vera Europa centrata sui temi della crescita del rilancio degli investimenti del sostegno alla qualità del lavoro per mettere in priorità il valore sociale del lavoro e dobbiamo lavorare insieme per l'unità di questo paese ancora spezzato spezzato tra nord e sud tra donne e uomini tra giovani e anziani tra lavoro pubblico e lavoro privato tra italiani e migranti per farlo c'è una sola via quella che stiamo sostenendo anche con forza in queste settimane in questi giorni è il dialogo sociale e la partecipazione non mi vergogno non mi vergogno a rilanciare l'idea di una rinnovata concertazione per riconnettere l'azione pubblica ai corpi intermedi della società al sindacato a chi ogni giorno come voi è impegnato a rappresentare necessità e aspettative di milioni di persone oggi servirebbe la costruzione di un vero campo largo di responsabilità se vogliamo governare i grandi cambiamenti in atto se vogliamo globalizzare i diritti la solidarietà se vogliamo rimettere la persona e la sua dignità al centro dei processi di crescita in quegli anni fu decisivo si ricordava il piano Marshall e il ruolo degli Stati Uniti d'America oggi abbiamo l'Europa e il nostro piano Marshall si chiama piano nazionale di ripresa e resilienza un'occasione unica irripetibile per questo stiamo chiedendo al governo di procedere con una messa a terra partecipata governata condivisa dei progetti che significa avviare tavoli di partenariato dare protagonismo ai territori valorizzare il contributo che può arrivare dalla rappresentanza sociale nel processo di attuazione e di impiego di risorse imponenti da cui dipende la prospettiva futura di questo paese noi dobbiamo realizzare una governance allargata che leghi le risorse a forti condizionalità sociali a partire dagli incrementi di occupazione netta per giovani per donne dall'applicazione dal rispetto scrupoloso dei contratti maggiormente comparativamente rappresentative e dall'investimento che bisogna fare sui temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro io penso che lo richiamava ieri il presidente Mattarella è il lavoro che va posto al centro del patto e del piano nazionale di ripresa e resilienza questo significa dare una spinta forte per collegare le aree deboli al resto del paese l'Italia all'Europa modernare reti assicurare equità nelle grandi trasformazioni del tessuto sociale produttivo elevare qualità della spesa dare certezza sui tempi e sul cronoprogramma esercitare il massimo delle responsabilità anche con buone flessibilità contrattate è questa la nostra sfida oggi il balzo che serve verso un modello di crescita sostenibile che affronti il tema delle diseguaglianze del riscatto delle fasce e delle zone deboli della centralità del lavoro è questo il grande impegno che abbiamo davanti a noi e sul quale vogliamo esercitare per intero la nostra azione di responsabilità per costruire importanti risultati per la comunità nazionale i tempi sono maturi secondo noi per far nascere un nuovo statuto della persona nel mercato del lavoro che vuol dire aprire un nuovo cantiere di elaborazione congiunta di tutti gli attori sociali economici istituzionali con il comune obiettivo di rafforzare le protezioni sociali proteggere la persona in ogni fase in ogni transizione della sua vita lavorativa ecco perché penso che oggi serva un vero scatto riformista da parte da parte di tutti un confronto non ideologico che supporti il ruolo autonomo dei corpi intermedi e promuova una negoziazione generativa innovativa moderna vicina alla persona capace di partecipare alla crescita delle comunità produttive dei territori e del paese e il livello privilegiato di questo modello non può che essere il territorio dimensione in cui pastore romani con incredibile con incredibile lungimiranza hanno individuato in quel tempo sia sul piano contrattuale che della rappresentanza il territorio è la chiave che aiuta l'affermazione che esalta il protagonismo di un sindacato libero capace di mettersi esclusivamente al servizio delle lavoratrici dei lavoratori delle persone e tra i più deboli si diceva che dobbiamo far sentire forte la presenza di un paese interamente mobilitato tra le dilaganti solitudini di massa nelle crepe del lavoro povero presidiando e organizzando le frontiere emergenti dell'economia digitale del lavoro su piattaforma rispondere a questi temi con la forza della nostra rappresentanza contrattuale nazionale decentrata con la partecipazione con i nostri servizi rispetto alle tante marginalità delle famiglie italiane e straniere ecco noi abbiamo il dovere di investire oggi su questi filoni importanti su questi dossier su queste priorità e lo dobbiamo fare con grande forza con grande unità con grande responsabilità mettendo al centro il valore della partecipazione nel 1951 questo protagonismo era tutto da costruire anche dal punto di vista sindacale ora il mondo del lavoro offre una formidabile grande infrastruttura affidabile che vogliamo mettere come CIS la disposizione del percorso di unità nazionale di una intera generazione colpita da un tremendo accorciamento dell'orizzonte della speranza il paese può uscire secondo noi in positivo dalla crisi solo con un grande sforzo condiviso a cui noi vogliamo ancora dare la forma di un nuovo moderno patto sociale per la crescita il lavoro il contrasto alle diseguaglianze un grande patto sociale un accordo un'intesa sulle prospettive economiche non ci stracciamo le vesti però il cuore il significato è quello di costruire una nuova grande alleanza tra generazioni legando organicamente solidarietà produttività lavoro crescita politiche industriali investimenti sulle infrastrutture redistribuzione fiscale sostenibilità previdenziale rilancio della scuola della pubblica amministrazione delle politiche sociali e per la non autosufficienza io penso che oggi ci sono ci sono le condizioni per farlo insieme ecco perché valuto positivamente questa convocazione di ieri sera del presidente draghi per martedì pomeriggio di sul tavolo della previdenza e delle pensioni operazione che abbiamo sollecitato anche nelle ultime settimane è un passo importante secondo noi che apprezziamo molto e che rimette sui giusti binari soprattutto il metodo del confronto premiando le ragioni delle nostre proposte delle nostre rivendicazioni e di queste prime giornate di mobilitazione responsabile e costruttiva certo dobbiamo lavorare sul merito il confronto non sarà facile sarà anche pesante lungo ma avremo secondo me la forza e la perseveranza nel tenere impegnate ai tavoli i nostri interlocutori per riempire quel confronto di contenuto il governo sa bene come la pensiamo sul tema delle pensioni conosce da mesi i contenuti della nostra piattaforma unitaria per noi il riferimento fondamentale rimane l'esigenza di inserire dosi di flessibilità di equità di inclusività nel sistema previdenziale e di farlo in modo strutturato con una riforma vera stabile socialmente sostenibile noi dobbiamo affermare un principio le pensioni non sono una regalia non sono un lusso o un privilegio ma un diritto fondamentale della persona dopo un'intensa attività lavorativa la previdenza non può essere considerato un dettaglio nel bilancio dello Stato non può essere considerato solo un costo economico perché c'è anche un tema di sostenibilità sociale ecco perché vedo quattro grandi questioni da portare a quel tavolo intanto sostenere i giovani che vivono spesso condizioni lavorative precarie frammentate atipiche discontinue e che intrappolati nel contributivo puro rischiano una terza età caratterizzata da insicurezze da paure e da povertà noi dobbiamo costruire una pensione di garanzia per i giovani facendo per esempio valere periodi di formazione riconoscendo sotto il profilo della contribuzione anche le fasi legate alla disoccupazione involontaria costruire un assetto protettivo e di garanzia significa assicurare prestazioni previdenziali e pensionistiche dignitose secondo punto è il tema delle donne che come vediamo continuano a subire traiettorie professionali altrettanto frammentate discontinue e per le quali chiediamo di migliorare per esempio opzione donna e di riconoscere quante volte quante volte l'ha ripreso questo tema Anna Maria di riconoscere alle donne sconti contributivi per i figli se vogliamo dare valore alla maternità se vogliamo sostenere la genitorialità coltivando un sostegno vero alle famiglie questa è un'esigenza ineludibile c'è una terza questione che è la necessità di estendere la platea dei lavori usuranti gravosi confermando in modo strutturale l'ape sociale e allargandola ulteriormente e poi c'è un quarto tema che riguarda la necessità di introdurre elementi di flessibilità in uscita dal mercato del lavoro noi dobbiamo affermare il principio della scelta libera volontaria delle lavoratrici e dei lavoratori sulla uscita a partire da 62 anni conquistando il traguardo di 41 anni di contributi a prescindere dall'anagrafe ecco perché non ci convince questa misura tampone presente in legge di stabilità su quota 102 perché per noi altro non è che una sorta di foglia di fico una misura tampone peraltro assolutamente debole insufficiente verso un ritorno alla legge alla legge Fornero noi questo non possiamo accettarlo ripeto dobbiamo introdurre elementi di sostenibilità sociale al sistema perché la riforma delle pensioni non va considerato altro rispetto ai temi del lavoro e dello sviluppo per noi questo è la base di un patto tra generazioni che ci deve aiutare a migliorare ad aumentare la qualità della vita della terza età rilanciare i consumi sbloccare il turnover nelle aziende pubbliche e private iniettare una nuova energia nel sistema produttivo incrementando competitività e crescita ecco perché il negoziato si annuncia pesante ma è importante è l'unica via che pensiamo si possa oggi individuare per sostenere con il consenso sociale il cammino dell'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza il tema delle grandi riforme e soprattutto la condivisione di quella che rimane la più importante legge che imposta la politica economica e finanziaria per i prossimi anni come la legge di stabilità noi dobbiamo sostenere tutto questo rilanciare quanto più possibile e coprire gli spazi di condivisione di partecipazione per far avanzare un modello di sindacalismo riformista meno ideologico meno massimalista meno antagonista oggi il paese ci richiede una forte azione per la coesione sociale ecco perché penso e chiudo spetti a tutti noi il dovere di fare nostra questa missione connettendo al presente quei giorni gloriosi che diedero davvero avvenire al sindacalismo come recita il titolo della mozione del primo consiglio generale della CIS io penso che spetta a noi il dovere di far tesoro della memoria interiorizzandola per dare protagonismo ulteriore alle donne agli uomini del lavoro ai giovani ai pensionati per sostenere insieme per promuovere una nuova stagione di crescita partecipata che dia prospettiva equità e prosperità al cambiamento vedo in questo una forte analogia con la stagione fondativa della CIS e con il suo primo congresso si ricordava che venne celebrato in questa bella sede nel novembre l'11 novembre del 1951 c'era allora un paese da sostenere da rilanciare dalle macerie della guerra c'era una sfida anche in quella stagione importante sulla transizione industriale tecnologica io penso che oggi come allora noi dobbiamo esercitare con quella responsabilità storica della CIS una forte iniziativa capace di aiutare questo paese a risollevarsi dalle macerie della crisi economica sociale produttiva occupazionale vincendo la sfida contro il covid noi dobbiamo fare questo e lo dobbiamo fare con la pazienza con la tenacia con la responsabilità con la forza che ci deriva da un'esperienza associativa di più di 70 anni lo dobbiamo fare sfidando molte volte e lavorando controcorrente sostenendo sostenendo questa priorità che ancora abbiamo di allargare di mandare in profondità la campagna di vaccinazione non diamo nulla per scontato il covid ancora cammina colpisce si allarga tocca tocca fasce di generazione come dire sino a pochi mesi fa impensabili noi dobbiamo promuovere rafforzare la campagna di vaccinazione nei luoghi di lavoro e fuori dai luoghi di lavoro far applicare in maniera rigorosa e rispettare i contenuti dei quattro protocolli che abbiamo sottoscritto e sostenere sostenere questa battaglia che per noi è una battaglia che ci aiuta se vinta se la vinciamo a recuperare la nostra normalità la nostra libertà altro che schierarsi contro la vaccinazione è il vaccino l'unica vera arma che abbiamo a disposizione per battere il covid e le scelte della nostra organizzazione sono state scelte forti esemplari responsabili che dobbiamo continuare a coltivare a sostenere battere il covid e aprire una vera grande prospettiva capace di consolidare e rafforzare la crescita che cominciamo a intravedere mettere in priorità la qualità la stabilità la creazione di lavoro soprattutto per giovani e donne la vera grande priorità che abbiamo davanti e che vogliamo sostenere coraggiosamente nell'interlocuzione col governo e con le associazioni datoriali c'è un cammino importante significativo davanti a noi come fu nel tempo della nascita della CISL oggi raccogliamo la sfida in coerenza con la nostra storia con le nostre radici con il tratto identitario e valoriale di un grande sindacato di una grande forza sociale come la CISL dell'autonomia del personalismo della contrattazione della partecipazione il dovere di aiutare questo paese a costruire solide certezze soprattutto per le giovani generazioni grazie ringrazio ancora i nostri amici relatori ringrazio tutti quanti voi grazie